Ciao, benvenuta alla lezione di Total Body Circuit Brucia Grassi. Allora, ci servono le scarpe da ginnastica, ok? Sistematevi bene prima di partire. Un po' di acqua, sorseggeremo ogni tanto un goccino d'acqua. Tenetevi un bel bicchiere d'acqua per il fine lezione. Il materassino che vedete qui dietro, che in realtà ci serve per la fase finale del percorso, abbassa la temperatura, oggi l'ho già fatto anch'io, arieggia un po' al locale se necessario e quindi iniziamo. Iniziamo il nostro riscaldamento sul posto con la classica marcetta. Iniziamo proprio a muovere il sistema corpo. Mi allungo bene in alto con la colonna. Ricordatevi che c'è sempre una sorta di controllo posturale che si traduce soprattutto in un buon allineamento della schiena, come se un filo invisibile passasse attraverso il nostro asse centrale e venisse tirato un poco in su, ok? Fantastico. Spingo bene dalla pianta dei piedi. Adesso andremo a riscaldare grossolanamente, dico grossolanamente, i principali gruppi articolari, ok? Ci mettiamo fermi a gambe divaricate, così, anche un po' più, appena poco più delle anche. Alzo e abbasso i talloni dieci volte, diciamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Avvicina, unisci i piedi, mani sulle ginocchia, disegna dei cerchi. Uno, due. Ti ricordo che se durante questa lezione, durante gli esercizi con fase di volo, intanto cambia il giro, il senso del giro, c'è una fase di volo, tipo il classico saltellino, apro e chiudo, eccetera. Intanto cambia, mani ai fianchi, gambe divaricate, schiena leggera in alto allungamento. Con le mani proprio spingo il bacino a destra e a sinistra. Dicevo, nella fase di volo, se senti fastidio a collo, spalle, schiena, ginocchia, le articolazioni che stiamo un po' riscaldando, considera in autonomia la scelta di evitare la fase di volo. Ci sono le versioni, diciamo, senza impatto, non so, del saltellino apro e chiudo, l'ho già mostrato in diverse occasioni. Per esempio, anziché fare la fase di volo, fai solo da una parte, lo stesso numero ovviamente di esercizi. Intanto cambia, fai un ampio cerchio con il bacino attorno all'area dei piedi, mantenendo la schiena leggera. Dall'altra parte, molto bene. Altra cosa importante, ragazzi, mantenere l'intensità elevata, ok? Cercate veramente di lavorare, adesso muoviamo le spalle con degli ampi cerchi, di lavorare ad un'intensità, una fatica proprio elevata. Preferisco che magari saltiate un esercizio perché proprio non riuscite più, non riuscite più, ma il grado io sarò lì a tifare per voi. Faccio l'altro giro. Quindi far saltare, come dire, un esercizio e riprendere l'esercizio successivo, mantenendo sempre una buona intensità di lavoro. Braccia in avanti, cerchio del braccio, circonduzione di un solo braccio. 1, 2, 3, 4, cambia l'altro braccio. 1, 2, 3, 4, 5, tutte e due le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, ruoto la testa da destra a sinistra, lascio le mani ai fianchi, le spalle non si muovono, mi ossigeno bene, mi allungo bene verso l'alto. e quindi inizio a fare lo step touch laterale. Un lungo passo laterale, riprendiamo l'attivazione metabolica aerobica, cominciamo a farci venire un po' di fiatone. Muoviamo bene il sangue, attiviamo la pompa cardiaca. voilà, aggiungi le braccia in un movimento che ha la sua coordinazione, fai andare bene le braccia, mantieni il passo laterale lungo. l'altro giro delle braccia, intendo per dentro. Molto bene. Mi fermo con le braccia fuori e pugni chiusi, mentre le gambe eseguono lo step touch laterale, eseguo dei piccoli cerchi rapidi con le braccia. Le spalle stanno giù, la colonna si allunga. mantieni bene il passo lungo, cambia il giro delle braccia, colonna allungata bene in alto, e ora veloci le braccia sforbiciano davanti alla linea del petto, mentre continuo ad eseguire lo step touch laterale. Mi fermo sul posto, con la camminata sul posto, che in realtà intensifichiamo già, alzando un po' di più le ginocchia e muovendo un po' di più le braccia. Fantastico ragazzi, adesso faremo un breve percorso di attivazione proprio dell'adrenalina, che è proprio un orgoglio che poi ci favorirà l'attività motoria e l'attivazione metabolica. Quindi, attraverso un circuito ormai noto per chi segue queste lezioni, di 10 secondi di sforzo intenso e 20 secondi di riposo passivo, cioè fermi sul posto, ok? Poi faremo anche il riposo attivo, ma ve lo chiamo al momento. Gli esercizi che faremo sono di facile apprendimento perché saranno la corsa sul posto, il saltellino a prochiudo, jumping jack, valuta se fare la parte ovviamente di volo o meno, alla seconda lo skip si chiama skip basso alla seconda, ricordati che le ginocchia devono essere bene sulla linea dei piedi, quindi non così, ok? Quindi, corso sul posto, jumping jack, skip basso alla seconda, quarto esercizio la calciata dietro, che risulta così senza il volo, diciamo, e una vera calciata dietro, diciamo, con la fase di, aggiungiamo tra virgolette, la corsa, ok? Allora, ci prepariamo, tre secondi e partiamo. Tre, due, uno, corri veloce, vai! Velocissimissimissimissimissimissimo, vai veloce con le braccia, veloce con le gambe, ancora un po', ancora un po', ancora un po', e pausa! Il prossimo sarà il saltellino, apro e chiudo jumping jack, quindi valuta di avere lo spazio per le tue braccia, ok? Valuta se fare il salto oppure no, 3, 2, 1, vai, apro e chiudo, veloci le braccia, veloci le gambe, ancora un po', stop, sul posto, mi allungo bene verso l'alto con la colonna e ci prepariamo, il prossimo sarà lo skip basso alla seconda con mani tenute davanti all'altezza del petto, gambe alla seconda, siamo già piegate, 3, 2, 1, vai, corri veloce, 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 squatti bene i piedi, battiti bene a terra, schiena diritta, un po' inclinata ma diritta e mi fermo sul posto, penso al prossimo che sarà la calciata dietro, respira profondamente, 3, 2, 1, calciata dietro, vai, vieni bene, raggiungi bene con il tallone e il gluteo, pausa, resta, ripeteremo i quattro esercizi, quindi corsa, gent in jack, skip, passo alla seconda calciata, dietro con il riposo attivo, cioè camminiamo, vaghiamo per 20 secondi anziché fermi, partiamo con la corsa, 3, 2, 1, vai, corri, veloce veloce veloce, braccia e gambe veloci, 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 Tieni, tieni, tieni l'intensità, tieni, pausa, cammina, pensa al prossimo che è il jumping jack saltellino, apro e chiudo, continua a muoverti, respira profondamente, partiamo in postazione, 3, 2, 1, vai, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, vai veloce. Veloce, pausa e cammina, voilà, già con questi senti perché il jumping jack ci sarà anche nel percorso successivo, valuta come sta il tuo collo, le tue articolazioni, il prossimo fai mente locale sullo skip basso alla seconda, preparati, 3, 2, 1, scuoti bene i piedi, pesta, 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 la schiena è inclinata di poco ma diritta, quindi non va così, diritta, 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 tieni, 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 pausa, cammina, prossimo, calciata dietro, respira profondamente, ancora 10 secondi di riposo, voilà, ai ai ai, già 5, pronti? 3, 2, 1, vai, calciata dietro, vai, tieni, 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 guacchi molla adesso, pausa, cammina, un sorsino d'acqua, allora sì, sarebbe stato troppo presto mollare ora, vi ricordo che l'intensità è regina, quindi se proprio non riesci, cerca di, ma proprio quando senti quasi freddo in bocca, la lingua in guagnancia, fai proprio più, prenditi una pausa da un esercizio, non ferma, cammina, non stare fermo, ma cammina in riposo attivo e aspetta l'esercizio successivo, ok? Allora, ora vedremo nel dettaglio una decina di esercizi per, come dico io, non state femmine, a secco, così vi dico un po' le cose da fare entrare nel cervello, i dettagli, anche se in parte già li conoscete, vabbè, un esercizio sarà la corsa sul posto, ok? Quella che abbiamo appena fatto, intuitivo, state, proprio, deve essere proprio velocissimo il movimento delle braccia anche per favorire l'intensità. Allora, squat, sumo, con tocco piede opposto, allora, gambe alla seconda, mani a preghiera, spariscono ma sono lassù in alto a preghiera, ok? Faccio lo squat e vado con una mano a toccare il piede opposto, dettagli tecnici importanti, guarda la schiena, scende ma inclinandosi diritta, non ingobbendosi, omino della lego, ricordati, ok? Allinea le ginocchia alle punte dei piedi, anche questo è importante, e lascia bene distese le braccia, provalo qualche volta, così poi quando dirò squat, sumo, avrai il file già inserito. Jumping jack, lo conosciamo, ok? Quello che abbiamo appena fatto, il saltellino apro e chiudo, ricordati di farlo magari senza volo se ti dà noia il salto. Poi, ho chiamato verticale pallina nel senso, allora, dobbiamo far fare dal corpo alla massima lunghezza sulla verticale, all'idea di fare come una pallina, ok? Se riesci vai anche proprio sulle punte qui e giù, puoi mettere le mani a terra per un discorso di equilibrio, i talloni li stacchi un po', ti chiudi proprio, e là, questo è posto. Poi, finti salti, lo conosciamo, è questo, qui davvero è un finto salto, però ci deve essere proprio l'intenzione del saltello, ok? L'abbiamo già fatto anche questo in altre lezioni. Poi, verticale e orizzontale, allora, ancora cambiamo la stazione da verticale, cioè questa, da orizzontale, che è questa, ok? Quindi, i piedi possono essere leggermente separati. Quindi, attenzione che quando andiamo sull'orizzontale a terra, la schiena deve essere, vedi, come una tavola, non devi mollare giù così. Non è, ci sono esercizi anche di stretching, di yoga, che prevedono di inarcare, ma fatto in velocità così? No, ok? Quindi, schiena, diritta, come una tavola. Il corpo non risulterà in una diagonale, vedi, dalla testa ai piedi, ma, cioè, la tavola fino ai glutei, sull'orizzontale, poi le gambe scendono, ok? Voilà, questo lo chiameremo verticale e orizzontale, in modo da capirsi, tac, tac, al volo. Poi, salto laterale. Immagino un fosso, non lo so cosa, oppure la larghezza del tuo tappetino, può essere anche quella, e di volerlo saltare, eh? Così. Salto in lungo laterale. Poi, superman. Superman a terra, ok? Superman a terra, ci mettiamo sdragliate pancia in giù, ne ho fatto l'altra volta, questo, ok? E andiamo a sollevare il braccio, la spalla, non là sulla verticale, eh? Qua, 45 gradi circa. Portiamo la consapevolezza del Pilates, quindi, non è che anche qui vado tutto sulla schiena, perché è tenuto come se ci fosse un girovita d'acciaio, eh? Che mi protegge la schiena in questa, eh, esercitazione. Squat con salto. Allora, squat con salto, ragazzi, eh, squat, tempo come di una pausa, eh? Salto, guarda le braccia, quando salto le braccia le stendo in giù, ok? Tac, tac, ok? Qui mi maledirete. Rolling più salto. Rolling più salto, prevede la presenza, ovviamente, del nostro tappetino. Rolling, scendo, dondolo, mi aiuto qui con le mani, eh, a salire, arrivo nella posizione dello squat e salto. Quindi, c'è il, provalo, eh, un rolling, arrivo nella posizione dello squat e riprendo lo squat con il salto. Molto, molto bene. Allora, ragazzi, ci prepariamo, ok? Ci prepariamo, prima sorseggiamo un po' d'acqua e vi annuncio la tempistica e la modalità. Comunque, voi pensate all'intensità. Comunque, saranno, eh, 40 secondi di lavoro e 20 di riposo attivo. In questi 20 secondi ci dobbiamo muovere ed essere già un proprio pronti sul pezzo, eh, con l'esercizio che andrò a chiamarvi. Quindi, eh, eh, piramidale. Piramidale è un po' diverso, nel senso che sarà solo a crescere e non a decrescere. Quindi, più o meno la tempistica e il minutaggio è lo stesso. Aggiungiamo una parte finale un po' più lunga e quindi vi tiro un po' di più rispetto all'altra volta sulla resistenza all'intensità. Allora, ragazzi, partiamo fra 10 secondi. I primi due esercizi saranno corso sul posto e sumo squat. Pronti? Vai, corri, 40 secondi. Vai, 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 vai. Tieni, 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 tieni. Vabbè, ho cambiato anche altre cose rispetto all'altra volta, ma non importa. Vai, tu corri, tu corri, tu corri, tu corri. L'altra volta è stata massacrante, oggi anche. Dai, dai, dai. Forza, 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 forza. Dai, 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 dai. Corri, 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 corri. Tieni la corsa, muovi veloce le braccia, veloci le gambe. Voilà. Voilà. Dai, 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 dai. Perché c'è la pausa. Adesso, cammina, scusa, respira profondamente. A seguire, ci sarà lo squat sumo. Quindi, quello con le braccia, ti ricordi in alto così. Molto bene. Ci prepariamo. Il tempo sta per partire. Pronti? Adesso. Giù, su, giù, su. Ricordati la schiena che si muove come un'unica bacchetta rigida. Su, giù, su, giù, su, giù, su. Non ci pensare, fai bene. Giù, su. Segui il tuo ritmo. La massima velocità che puoi adottare insieme alla buona esecuzione tecnica dell'esercizio. Voilà. Manca poco. Manca poco. Manca poco. Manca poco. Pausa. 20 secondi di pausa. E ti dirò di più. Seguiranno 30 secondi anche di pausa. Perché poi, quindi il riposo adesso sarà più lungo. Se vuoi puoi sorseggiare ancora 30 secondi. I prossimi saranno i quattro esercizi consecutivi. Quindi, corsa, squat sumo, jumping jack e ti ricordi verticale e pallina. Ti sto, come vedi, concedendo più riposo perché in realtà i tempi adesso sono un po' diversi dal percorso della settimana scorsa. Siamo prontissimi per partire adesso. Vai. Corsa. Vai, 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 vai. Corri, 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 corri. Vai veloce, vai veloce, vai veloce. Vai veloce. Veloce. Corri tanto, corri tanto. C'è il leone dietro. C'è il leone. Muovi veloce le braccia. Dai l'impulso alle braccia. Forza. 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 Gambe che sgambettano. Braccia forti, veloci. Dai, 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 dai. Manca poco. Manca poco. Manca poco. Tieni, 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 tieni. Cinque secondi ancora di velocità. Cinque secondi. Pausa. Cammina. Il prossimo sarà ancora lo squat. Sumo. Con il vado a toccare il piede opposto. Ci prepariamo. Piedi, gambe, braccia. Pronti. Vai. Giù, su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, su. In realtà non voglio darvi un preciso ritmo perché ciascuno ha la propria intensità compatibile con la buona esecuzione dell'esercizio. Ricordati le ginocchia in linea con la punta dei piedi, la schiena che si muove con una bacchetta rigida. Anche le braccia sono belle distese. Vai. Tieni. Tieni. Ancora pochi secondi. Pausa, cammina, venti secondi. Il prossimo sarà jumping jack. Deciderai tu se fare la fase di volo oppure no. Ok? Respiriamo profondamente. Voilà. Il tempo che parte per jumping jack. Vai. Chiudo. Vai veloce. Vai veloce. Vai veloce. L'ossigeno profondamente. Ancora un po'. Tieni, tieni. Tieni, tieni. Vai veloce. Questo ci alza bene il nostro ritmo. Pochi secondi ancora, ragazzi. Vai. E pausa, cammina. Prima di fare l'esercizio che abbiamo chiamato verticale pallina, cioè tutte stese su e tutti chiusi giù, come una pallina. 5 secondi e siamo pronti. 3, 2, 1. Verticale su, pallina giù. Verticale su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Su, giù. Voglio pure a terra le mani per una questione di equilibrio. Su, su, su. Io appoggio anche al soffitto ogni tanto. Mi autodenuncio. Dai, che manca poco. Voilà. Pausa. Cammina. Molto bene. Cammina. Riposa. Allora, un bel riposo. Adesso sempre attivo così. Il prossimo, intanto sorseggio un goccino d'acqua. Il prossimo step sarà di fare sei esercizi consecutivi. Ok? Quindi saranno la corsa sul posto, lo squat, assumo con tocco il piede laterale, il jump. Green jack. Quest'ultimo verticale e pallina. E poi faremo i finti, aggiungeremo alla sequenza, i finti salti e poi verticale orizzontale. Apro in panca frontale. Ok? Cinque secondi e si parte con la corsa su posto. Adesso. Adesso. Corri. Corri veloce. Vai. Apri la finestra se vuoi. Apri. Apri. Come sei messo a casa tu? Io c'ho caldo. Anche se ho spento tutto. Ulla la. Dai, dai, dai. Muovi veloce. Gambe e braccia. Gambe e braccia. Vai. Vai. Corri. Corri. Libero il leone. Attenzione. Apriamo le cabbie. Nei leoni che ci sbranano. Vai. Vai, 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 vai. Ancora poco. Bravissima. Super. Bravissima. Venti secondi. Prima di effettuare lo squat sumo con tocco il piede opposto. possiamo fare ancora due passi e cinque secondi e si parte. Quindi preparati, metti il file, braccia su, vai. Squat, ricorda i dettagli. Schiena diritta. Le ginocchia si piegano orientandosi verso la punta dei piedi. spingi bene indietro i glutei, proprio spingo indietro per dare il posto anche proprio alla schiena di svilupparsi in tutta la sua lunghezza. Dai. Ti vedo. Ti vedo. Ti vedo. Ancora pochi secondi. e pausa. Fantastico. Seguirà il jumping jack. Dieci secondi, ragazzi, e jumping jack. Ricordati di scegliere la fase di volo o non fase di volo. Chissà più, fai come vuoi, veramente, però mantieni una buona velocità. Tre, due, uno, partiamo. Apro e chiudo. Non ci penso. Non ci penso. Uh la la. Uh la la. Dai, 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 dai. Uh. Guardo all'orizzonte. Penso a come starò bene dopo. Adesso lo so, mi vuoi ammazzare, ma poi starai meglio. Poi dopo anche, magari. Dai, dai, attenta ai piedi, alle tue articolazioni. Pochi secondi. Pausa. Cammina. Il prossimo sarà verticale pallina. Io baro un po' perché mi attacco anche al soffitto. I vantaggi di una balzarda non sono sempre le testate che ho preso. In qualche video si è visto anche. Ah, ci parte il tempo. Vai. Su. Giù. Su. Giù. Anzi, non do io il ritmo perché ciascuno ha il proprio. Sviluppa proprio la massima lunghezza della tua statura e ti chiudi il più possibile. Massimo. Giù. Su. Ecco, è più forte di me. Vi do il mio ritmo. Invece voi fate il vostro. Magari andate molto più veloci di me. Andate molto più veloci di me. Dai. Provaci. Provaci, provaci, provaci. Pochi secondi ancora. Dai. Voilà. Pausa, 20 secondi, cammina. Seguiranno, ragazzi, i finti salti. Avremo le gambe leggermente separate. Le mani le possiamo tenere ai fianchi o anche libere lungo il corpo. 3, 2, 1, vai. Ho anche un po' confless. Fingi la fase di volo. Libera di saltare se vuoi. Stai molleggiata bene sulle gambe. A seguire di questo esercizio ci sarà verticale e panca frontale, che chiamo verticale e orizzontale per comunità, perché ci dà l'idea proprio dell'asse, della nostra postura. Poco ancora. Stop. Cammina 20 secondi, poi valuta i tuoi spazi per raggiungere la posizione orizzontale della panca. 10 secondi e partiamo. Fai mente locale, metti il file del prossimo esercizio. Dai che siamo super strong. Vai. Verticale giù, orizzontale e torna. Anche qui usate il vostro ritmo, eseguite bene gli esercizi, sentitevi sempre in posizioni faticose, scomode, però safe per la vostra schiena e le vostre articolazioni. Dai, ancora poco, ancora poco, manca pochissimissimo. Voilà. Pausa. Pausa 20 più 30. È arrivato il momento di sorseggiare e annunciare il prossimo step che hai già capito. Si compone di otto esercizi. A quello che abbiamo appena fatto, aggiungiamo, solo te lo ricordo, il salto laterale. Ti ricordi di saltare il fosso e Superman a terra, ok? Sai che è quasi il passato, 5 secondi, ma è in postazione della corsa perché si riparte proprio adesso. Vai, corsa sul posto, muovi velocissima le braccia, super rapida con le gande, super rapida con le braccia. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Libero le gabbie, apro le gabbie dei leoni, quello serve sempre aiuto. Scappa, scappa, vai. Veloce, non ci pensare, non ci pensare, scappa. Vai. Super sonico. Vai, vai, manca poco. A seguire, ragazzi, oltre ai 20 secondi di pausa, ma ancora ci insegue il leone. No, fine, pausa. Ci sarà lo squat sumo con tocco il piede, ok? Dai, 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 che siamo fortissimi. Preparati per lo squat sumo, braccia, gambe, concentrazione. 3, 2, 1, vai. La schiena è diritta, un po' come fosse una bacchetta, si inclina, ma non si spezza nessun movimento tra vertebra e vertebra. E' un movimento che nasce dalle anche. Ricordati di spingere bene indietro i glutei. A seguire, ragazzi, a parte la nostra pausa di 20 secondi, ci sarà il jumping jack. Eh, dai, 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 vai ancora un po'. Pausa, cammina, 20 secondi. Ci sarà poi jumping jack. Valuta tu se fare o non fare la fase di volo. Trova però il tuo posticino dove andremo a sudare insieme di nuovo. Ci prepariamo. 3, 2, 1, vai. Siamo ad ottimo, ad un ottimo punto di svolta. Esisti, veloce, guarda l'orizzonte, vai veloce con le gambe, veloce con le braccia, ossigenati. Vai ancora, vai ancora. Dai, 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 dai. Super. Qualcchi secondi. Cammina. Ci seguirà. Verticale pallina. Sì, sì, verticale pallina. Siamo ad un ottimo punto del nostro percorso. Speriamo di avere il tempo di farlo tutto, dovremmo farcela. Ragazzi, si parte. 3, 2, 1, verticale pallina. Massima lunghezza e faccio il movimento proprio di raccogliere il corpo. Voilà, 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 voilà. Che siamo super bravi. Super bravi. Dai. Dai, 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 dai. Non do il tempo, vai più veloce di me. Io sono lentissima, confronto. Eh, voilà. E pausa. Cammina. Cammina, cammina. Ci saranno i finti salti a seguire. Finti salti. Terremo le braccia un po' come sentiamo che sono più comfort. Comfort. Ok, diciamo comfort. 3, 2, 1, vai. Posso anche fare un po' un'oscillazione così con le braccia. Guarda l'orizzonte. Schiena bella diritta. Molleggiato sulle ginocchia. Dai, 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 che manca poco. Manca davvero poco, sai? Se vuoi saltare, salta, eh? Ancora pochi secondi, poi 20 secondi di pausa. Allora, cioè, adesso, cammina. A seguire ci sarà verticale, orizzontale. Ti ricordi il raggiungimento della panca frontale. Molto, 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 molto bene. Allora, 5 secondi e partiamo. Valuta di avere spazio davanti a te. Pronti? Prontissimi. Allungati in alto. Giù, come la pallina di prima. Camminati allinei. Ricordati l'allineamento, eh? Mi raccomando. Voila. Su. Segui il tuo ritmo. Esegui correttamente gli esercizi. Massima velocità consentita. Non di meno. Vai. Stai sempre un po' sul tuo limite. E, lo so, le gambe tra un po' ci lasceranno. Aiuto. Aiuto. Et voilà. Pausa di 20. Ragazzi, non ci resta che saltare il fosso con un salto laterale. Qui le gambe devono reggere, se no facciamo un bel bagno. 5 secondi e fai un salto laterale. Pronti? Vai. E salto. E' un po' come se fosse uno step touch. con... Uhlala. Vedi, arrivo. Il piede che arriva solo tocca. Vai. Il mio fosso è sempre più stretto, mi accorgo. Non so, il tuo. E' un po' come se fosse uno step touch. Dai, pensiamo a un canale. Oltre il canale, la salvezza. Dai. Vai. Ancora pochi secondi, poi ci saranno 20 di pausa. E precisamente, ora, preparati per Superman. Non ancora proprio, ma mentalmente. Cammina. Quando bancheranno sette secondi, ti dirò di metterti prona. Cioè, adesso, prona pancia in giù. Preparati per Superman. Braccia distese. Tre, due, uno. Vai. Alterna un lato e l'altro. Ma tieni forte il tuo girovita. Ti devi sollevare con la forza del dorso, diciamo, non della lombare. Quindi, la lombare è protetta dal girovita d'acciaio che ormai hai, grazie alla powerhouse e al controllo posturale. Lo so, lo so. E' faticoso. Lo so. Dai. Dai. Super. Super. Adesso ci alziamo in piedi, ragazzi. 20 secondi e, a sorpresa, aggiungiamo gli ultimi due. Se te lo dicevo, morivi. Allora, 20 secondi e facciamo squat, foto, salto. Ok? Quindi, in realtà, completiamo il nostro giro di esercizi. E, precisamente, adesso, squat, foto, salto. Squat, foto, salto. Squat, foto, salto. Squat, foto, salto. Salto. Squat, foto, salto. Squat, foto, salto. Dai, 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 dai. Su. Su. Dai. Lo sai che poi ci manca solo un esercizio. Quindi, tutta la forza che hai, usa la. Tutta la grinta che hai, tienila pronta per questo scatto finale. Resistenza finale. Pausa. 20 secondi. 20 secondi e a seguire il massacro finale. Rolling. Arrivo in squat, salto. Mi sposto, altrimenti sono in mansarda e rischio di prendere la testata. 3, 2, 1. Giù, rotola. Arriva in squat, foto, salto. Giù, rotola. Arriva in squat, foto, salta. Vai. Te lo giuro, è l'ultimo. Non ci sono altre sorprese. Aiuto. Dai. Con me. Forza. Dai che manca poco. Te lo giuro, manca davvero poco. 10 secondi ancora. Dai. Ce ne sta un altro. E... Grandissimo. Bravo. Applauso. A me giro un po' la testa dalla fatica. Un applauso, ragazzi. Sei bravissima, bravissima. Siamo super. Sorseggio un po' d'acqua. Non ti fermare del tutto. Ma... Balla, ovvio. Adesso ti invito a fare lo step touch un po', diciamo, veloce ma cortino. Ok? Come un passo normale. Dobbiamo riportare il corpo a la condizione di frequenza respiratoria e cardiaca, diciamo, di riposo. Il cuore ci metterà un po', il respiro anche, suderete ancora, vi sentirete per un attimo sfasciate senza energia. Buon segno. Ma poi il nostro corpo, anche quando voi siete fermi, ricomporrà le riserve energetiche che abbiamo utilizzato, ok? E lo farà attingendo in parte dal glicogeno, credo non muscolare perché l'abbiamo usato tutto, quello epatico e perché no? Ci auspichiamo, e dovrebbe essere proprio così, a meno veramente di una differenza fisiologica da soggetto a soggetto, agli adipociti. E quindi al grasso, sostanzialmente, va ad intaccare, va a utilizzare anche l'energia proveniente dai grassi. Respiriamo profondamente. Porta dentro tanto ossigeno. Perchè anche proprio quello che ci serve Per completare proprio il processo di recupero che vi ho detto Voilà Via via, fermiamo Il nostro Sistema Sempre più Fermi Ascoltiamo quell'effetto di rimbalzo, eh? Quella strana sensazione di essere Fermi il nostro sangue che ancora Circola come se dovesse Ancora nutrire e portare tanto sangue ai muscoli Quindi tra un po' Il nostro cuore Capirà che deve pompare Un po' di meno Quindi abbasserà un po' la frequenza Un po' la gittata e via via questo Stordimento che abbiamo addosso diminuirà Facciamo qualche movimento articolare Per sciogliere eventuali contratture Riprendiamo quello iniziale Mani ai fianchi Facciamolo lentamente Esploriamo bene tutto il movimento Da una parte e anche dall'altra Voilà Separa di più l'appoggio dei piedi Mantieni ferme le gambe Fletti lateralmente il busto Tirati bene E dall'altra Vado ad allungare Voilà Ancora una volta Tiro Fermi con il bacino e con le gambe E ancora Molto bene Trovo un appoggio per le mani Tiro il muscolo del polpaccio Mantieni una bella linea Tra tallone e spalle Quindi non lasciare dietro il bacino Non è troppo avanti Mantieni bene la linea Sento allungarsi il polpaccio Mi ossigeno bene Cambio Bene la linea Ragazzi Dalla spalla al tallone Molto bene Ora Trova sempre un punto per l'equilibrio Vai a prendere il dorso del piede La caviglia Avvicina il tallone a te Il gluteo Mantieni una buona linea Dal ginocchio alle spalle Quindi attenzione Non rimanere Inarcati con la schiena Stringi un po' i glutei Spingi avanti Il cubo Scusate Il Vai Fai il cambio Un attimo che questo è Importante Aiuto Ok ce la faccio È arrivato un pacco Molto 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 Bene Sciolgo un attimino ragazzi Con le spalle Con dei cerchi La nostra lezione è terminata Se avete ancora del tempo a disposizione Ripetete pure la parte di stretching O l'intera lezione di stretching muscolare Non dimenticatevi di fare un bel bicchiere d'acqua Voilà Aspetto un vostro report Vi auguro una bellissima giornata Adesso starete un po' in down Ma poi Tac L'energia per tutto il giorno Un bacio e grazie A presto 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 Grazie.